A meno di un giorno dall'inizio dell'esame di Stato, la Asla Toscana Sud-Est attira le somme sui maturandi che hanno prenotato il vaccino anti-Covid, grazie all'opportunità messa a disposizione di questa categoria dalla Regione Toscana. Da sabato 5 giugno, primo giorno di apertura delle prenotazioni sul portale regionale, sono 4.401 i maturandi tra i 18 e i 20 anni che hanno fissato l'appuntamento per vaccinarsi nelle sedi della Sud-Est, in particolare 1.209 in provincia di Grosseto, 1.631 nell'Arettino e 1.561 in quella senese. L'adesione degli studenti che si accingono a fare la maturità è stata elevata, segnale di un profondo senso civico radicato anche nei giovani e della voglia di tornare ad una vita più normale possibile in prospettiva dell'estate appena iniziata, afferma il direttore generale Antonio Durzo. La risposta entusiastica e i dati ci fanno besperare e dimostrano un atteggiamento sicuramente di fiducia nei confronti della vaccinazione anti-Covid. Dopo l'input della Regione, ci siamo subito mossi per organizzare le linee vaccinali con una programmazione ad hoc per questi ragazzi, predisponendo le sedi ed il personale necessario, parallelamente alle vaccinazioni già in corso. Intanto proseguiamo con la somministrazione alle altre categorie e con tutti gli over 16 che ormai possono prenotarsi sul portale. Per chi ancora non l'avesse fatto, sul portale prenotavaccino.sanità.toscana.it è tuttora aperta la sezione maturandi su cui potersi prenotare.